Un volo di quasi 13 ore, Papa Francesco e il tempo in aereo di dialogare con i giornalisti dimostrano la vignetta del migrante tredicenne del Mali morto nel Mediterraneo con la pagella cucita sui vestiti. Il Papa è commosso, ne parlerò nel viaggio di ritorno, promette. Rispondendo poi a una domanda sulla barriera attraverso i festegmiti, dice che sono i muri della paura. Un giornalista mi racconta di aver visto a Tiguala il muro che entra nel Oceano, una follia, Francesco Coventa e la paura che ci fa pazzi. Questo è il preambolo della GMG di Panama nel Centro America alle prese con povertà, violenza e migrazioni forzate. Una realtà che scoprono per la prima volta i ragazzi italiani tenuti fin qui. Il presidente della CEI, Cardinale Passetti, c'è la prima messa per loro e insiste sul dovere dell'accoglienza. Si sta perdendo la categoria dell'accoglienza, vuol dire perdere la categoria dell'inizianismo che il fenomeno vada regolato, eccetera, questo è il dubbio, ma ormai è proprio un fenomeno a livello di mondo, non basta più nemmeno l'Europa. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.